Dico solo una cosina, quando gli ho chiesto chi andrebbe di venire a rappresentarlo a Naima, la salsa portoricana, gli ha detto sono venuto due o tre volte nel vostro locale, per me è un onore venire a ballare da voi. Arriva da tepi, Fabio Alessandro, a Salsa Liga, Porto di Castaio! Salsa Liga, Porto di Castaio 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 Salsa Liga Salsa Liga, Porto di Castaio 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 Salsa Liga, Porto di Castaio